al comitato consultivo che devono dare un parere per dire se la destinazione di quel bene a se stessi, per esempio, va bene o meno. Non so se sono stato particolarmente chiaro. L'associazione X è all'interno del comitato, dà il parere favorevole affinché quel bene venga destinato a se stesso e l'agenzia, con questa modifica che viene fatta, può dare il bene all'associazione X. Questo è quello che sta capitando, il tutto senza minimamente trasparenza e quindi quello che è stato lo scandalo saguto, cioè prendere i beni, sequestrare e confiscare i beni a cosa nostra, si trasforma in un prendere e sequestrare i beni a cosa nostra per darli a cosa loro. Grazie, Presidente. Grazie, Collega Nuti. Prima di rispondere sulla questione della lettera, saluto gli studenti e i docenti dell'Istituto Comprensivo Statale di Mira, in provincia di Venezia, che seguono i nostri lavori. Allora, giusto per informarla, le due lettere a cui faceva riferimento che sono state inviate all'indirizzo della Presidenza hanno ricevuto risposta in data 5 novembre 2015 all'indirizzo del deputato Ferraresi, quindi non al capogruppo, ma al deputato Ferraresi. Per quanto riguarda invece il testo ufficiale su cui voi avete presentato emendamenti, il testo è entrato in archivio venerdì 6 novembre intorno alle 16 e da quel momento costituisce il testo ufficiale, giusto per dare qualche informazione. Adesso c'è il collega Sanni Candro. Prego. Credici colleghi, signor Presidente, mi atterrò scrupolosamente all'argomento. Mi ha fatto impressione ascoltare o rileggere il testo delle audizioni laddove gli auditi, normalmente i magistrati che operano sul campo, hanno tutti convenuto che il decreto legislativo 159 del 2011, quello noto altrimenti come codice antimafia, si è dimostrato ben presto, addirittura, ben presto, subito dopo il suo varo, un decreto legislativo inefficiente. Ora,